Ciao a tutti ragazzi, come va? È sabato, anche di sabato lavoriamo il vostro personal baldo non si ferma mai tant'è che potete notare che Bruno, un altro dei miei ragazzi inseriti nello small group workout quindi un lavoro per tono muscolare alla chest press dopo aver fatto 3 serie da 10 vero Bruno? come ci si sente? stanchi stanchi va bene, no? sempre in fondo adesso cosa abbiamo dopo la... ora la dorsali dorsali che macchina abbiamo? è la scheda che... ecco fai vedere la scheda che io do anche ai miei dall'inizio abbiamo che mi ha... è la scheda personale dei miei ragazzi ok, allora che cosa facciamo? ora io devo fare dorsali dorsali cosa? laterali avanti e presa in verso ok andiamo andiamo ok, mentre Bruno si accinge per andare alla... alla... alla latte machine se non credo vado a raggiungere l'altra del... altra componente del gruppo che si chiama PIN che finna oggi anche dei nostri di sabato e... ha finito credo il ponte glutei si ha finito il ponte glutei e la raggiungiamo nella nella zona cardio prima di raggiungere ritorniamo nuovamente da Bruno che ci fa vedere la latte machine presa avanti direzione cerchiamo di stabilizzare la colonna vertebrale quindi massima estensione della schiena e massima contrazione ottimo ottimo esercizio per rafforzare la zona posteriore del tronco quindi cercando di tonificare maggiormente e salutiamo Virna Virna oggi lavora nella zona ellittica l'ellittica lavora in modo bilaterale la zona della schiera insomma un assaggio oggi ho un continuo di passeggio di persone che mi verranno a trovare per una serie di allenamenti salve per una serie di allenamenti anche il sabato il sabato magari più tranquillamente ci si guarda ok sei in attesa ok Bruno salutiamo magari facciamo la ripetizione prima e poi salutiamo con calma tra pochi secondi ripartiamo mettiamo la schiena in posizione corretta mettiamo la presa un po' più larga la presa un po' più larga bravissimo ok portiamo in massima estensione questa esecuzione ok ottimo quindi tutta la colonna va ad essere stimolata da una macchina antichissima ormai si conosce da una vita la latte machine dove possono effettuarsi si possono effettuare parecchie stabilizzazioni parecchie prese o inverso avanti dietro è consigliabile non farlo più per evitare problemi sulla cuffia rotatoria ok salutiamo Bruno un abbraccio ai nostri ragazzi la gente che ci segue stanco ma va bene niente adesso vi saluto perché non ho neppure il tempo di migrattarmi forse i capelli che avevo mi raccomando per qualsiasi informazione baldalberti attraverso il mio sito www.baldalberti.it o 329 41 880 770 no pain no gain